Una buona serata a tutti, ben ritrovati anche questa sera per un nuovo appuntamento. Questa sera abbiamo in studio l'avvocato Giuseppe Scaramuzzo dello studio legale dei casi di malasanità. Qual è l'iter che deve essere? E gestite tutto voi, in tutto e per tutto? Assolutamente sì, gestiamo tutto noi, in tutto e per tutto, hanno meno presupposti e dopodiché se si andrà avanti nell'azione, una relazione medico-legale. In questi casi il magistrato avrà a sua volta necessità dell'ausilio di medici, quindi i costi diventano sempre più elevati, anche perché è necessaria la consulenza fino alla fine, avendo il mio compenso, soltanto anche perché saranno i medici a riferirmi se effettivamente è un caso di responsabilità o meno. Inizierò prima un'azione con finalità conciliative, cioè un rapporto di natura contrattuale. Quando il rapporto di natura è extracontrattuale, i termini sono abbreviati rispetto a quelli decennati di Ante Napoleone, Roma e Napoli, ma questo giusto per dare un riferimento. Ricordiamo ai nostri telespettatori che se sono stati vittime di danni personali dovuti a specifici casi di mala sanità possono contare e vi auguriamo una piacevole serata.